come sempre un po di backstage che non fa mai male vediamo chi entra buonasera a tutti vediamo chi entra vediamo chi entra intanto io mi interfaccio sempre con il pc per vedere i vostri messaggi anche su ammazzeri eccoli carolina fabio grande fabio alessandra ciao alessandra ciao carolina ovviamente ciao monica bene bene entrate 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 in tanti perché il gruppo deve crescere alessandra ciao 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 ora oggi c'è un po il tono un pochettino basso quindi mi metto col 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 tipo gli astronauti ciao ciao sto controllando è tranquilla allora vediamo un attimo perché abbiamo su facebook abbiamo delle richieste di entrare nel nostro gruppo e le ciao allora io stasera volevo fare un po di prove con il pendolo un po quello che abbiamo fatto nel gruppo in questi giorni quindi se avete foto da fare teste pre dopo il trattamento a distanza il pensiero non so che altra cosa facciamo tutto quanto ciao maglia salutino anche a te allora 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 come sempre consueta live del ormai del fine settimana stiamo a giovedì volevo farla domani ma domani avremo una nostra amica alessandra mi chiede è alessandra guarda io sono sincero io non mi occupo di faccende sentimentali e diciamo questo è più una cosa sui tarocchi e ti consiglio in questo senso di sentire la mia compagna che si occupa della parte dei tarocchi si chiama mi riella stazzi puoi tranquillamente cercarla su facebook ciao assunta ciao amici diamo il benvenuto pure a sabrina che è entrata adesso nel nostro gruppo il nostro gruppo ma alessandra non c'è problema non ti devi scusare la pagina nasce come il mondo della radio e si sia poi la mia compagna ha chiesto di poter entrare nel gruppo e allora quel punto abbiamo messo il mondo della radio e si sia dei tarocchi perché tra diciamo molto presto andremo a fare delle live insieme perché la radio e si sia i tarocchi ha dei punti d'incontro davvero davvero niente male allora partiamo subito con due libri che vi voglio far vedere un libro che non deve mancare ho visto che qualcuno ci è la ma ve lo consiglio acqua e vibrazionali non mi chiedete perché lo vedete al contrario probabilmente voi non lo so perché è un libro molto bello molto curioso infarcito oltremodo di informazioni e ci dice come si possono creare le acque vibrazionali lui parlo lui parte dal concetto che le acque vibrazionali si si possono creare sola solamente con un goccio di acqua di l'urta ad esempio che poi tu vai a replicare ebbene durante il corso con il nostro fabio ci siamo accorti che siamo riusciti a rifare un anzi due acque è come sì è vero che a specchio ma non strano però perché ogni tanto ogni tanto si vede male fa un fa un po come vuole ma non ci stanno cose che in informatica non meglio non chiedere comunque quell'altro che ti consiglio è cromo radies sia per il benessere è carino non è così completo come potevo immaginare ma dà dei buoni consigli sull'uso dei colori applicati diciamo ecco alla vita di tutti quanti i giorni allora una cosa di quel video che ho messo la scorsa settimana quello su annullare i noti di artman scusate un secondo mi è arrivato un messaggio in privato ok no e vichi 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 edo scusa un commento su un video e allora dicevo abbiamo fatto un test sui nodi di artman io e fabio praticamente abbiamo visto come siamo riusciti con una frequenza audio a tappare il noto di artman a fabio una persona comunque molto preparata bianca ciao ha detto che noi in realtà non abbiamo annullato il noto ma gli abbiamo messo sopra tipo un tappo che che lo ha fatto spostare marcella ciao è una contraddizione perché il nodo di artman nasce dalla terra come fai a spostare un vortice che esce dalla terra è impossibile quindi secondo me non è vero che il nodo si è spostato si è spostato il nodo si è bloccato è stato attappato è come se hai messo il tappo in una mi sentite ora 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 mi sentite ora probabilmente come sapete ho sempre questo problema di connessione adesso la sistemiamo perché è davvero troppo mi fa incavolare a morte allora, quindi, ecco abbiamo annullato i noti di Hartman, io e Fabio e l'abbiamo fatto in tantissimi modi ora, qualcuno ha qualche foto da esaminare? cacciate queste foto, cacciate un po' di prove, facciamo un po' di esercizi anche mentali, ok? anche se non credo che possiamo mettere le foto sulla live, credo però, ecco se avete qualche esercizio da proporre no, 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 no anche sull'acqua e come abbiamo fatto fino a ieri un oggetto eccetera ve lo dico perché ho il pendolo qui davanti a me e da qualche parte dovrei avere pure la scala di Bovis che voi dovete sapere la scala di Bovis io me la porto praticamente sempre appresso e che succede ogni volta me la perdo ecco, eccola qua vai, vai Fabio caccia st'acqua, dai vai dagli con l'acqua vai con l'acqua e vediamo un attimo cosa esce fuori ci dice di testare una gattina Monica lo facciamo lo facciamo ok allora io intanto un attimo che testo la gatta di Monica allora vediamo un po' ciao Francesca intanto andiamo a fare il test sulla gattina di Monica sulla vecchietta di casa guarda Monica guarda sta a 6.500 sta tra i 6.500 e i 7 Dario io ti ho risposto ti ho risposto quindi io ti direi Monica per adesso di stare un po' tranquilla ok eh sì stiamo a quel livello sì 6.600 6.500 si vede che è una gattina vecchietta però insomma ancora possiamo stare tranquilli ha una buona allora specifichiamo l'ideale come abbiamo sempre detto è 6.500 6.500 6.000 sotto come dire il 6 meno meno è tra il 5 e il 6 però ancora ancora si 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 tiene sotto no eh quindi stai per per adesso stai tranquilla la cosa importante è che tu la possa controllare spesso ok che comunque la gattina vediamo un po' un attimo scusatemi vediamo un po' la gattina io poi mi sto specializzando anche nel trattamento degli animali voglio approfondire anche quel discorso e sì stiamo guarda ti confermo stiamo tra i 6.600 e i 6.500 quindi ancora ancora buono Francesca ciao quindi per adesso stai proprio tranquilla e dai altre foto fate vedere altre foto per chi è sul group l'ho messa stasera sotto il tuo circuito aspetta quale quale il 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 tp allora intanto magari ecco così intanto facciamo conoscere Luisa ciao anche il gruppo su whatsapp se avete foto tanto starete insieme ancora una mezz'oretta fino alle 11 che domani mattina purtroppo c'ho il treno tremendamente presto però vabbè poi io ti dico mezz'ora tanto poi è sempre di più mettete delle foto anche sul gruppo su whatsapp ovviamente vi chiedo di non metterne 50 una di seguito all'altro quello che hai consigliato su ah si 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 il circuito avevo creato proprio un circuito di si si adesso ricordo perfettamente francesca puoi testarmi ho un dolore alla gamba destra allora è ovvio che questo video poi se riesco andrà pure su youtube io vi cito solamente come nome mai come mai con il vostro cognome allora mi dici testarmi un dolore alla gamba destra vediamo un attimo arrivo ele on ora qui c'è una nostra amica che ci ha chiesto di un dolore alla gamba destra allora intanto ti dico che le ossa è un blocco del primo chakra ok quindi devi capire che cosa ti succede a livello di primo chakra allora abbiamo una sofferenza alla vertebra di 10 ok allora la vertebra di 10 Luisa se vuoi stiamo là non ci sono problemi anzi sarei molto contento di averti nel gruppo aspettate un secondo allora adesso arrivi buoni buoni piano 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 vediamo un attimo di fare tutti perché stanno arrivando anche foto allora intanto è ovvio che fare una tra virgolette una di agnosicosi è insomma è un po' impegnativa è un po' complicato allora io qui ho vediamo un attimo chi era l'amica che mi ha chiesto la gramba credo Francesca Francesca ha una sofferenza alla vertebra di 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 10 che praticamente ha il bisogno di sentirsi vittima ok questo più o meno a grandissime linee come fare ad entrarci mi mandi un messaggio anche ora poi magari ti ci metto dopo al 345 9732031 parte sinistra del fianco ragazzi io oggi volevo fare oggetti acqua eccetera ma non per cattiveria perché comunque vediamo un attimo se ti trovo magari a meno la vertebra specifica di Assunta Teresa vediamo un po' tu Assunta hai un problema alla vertebra C7 e adesso ti dico intanto voglio fare un attimo il test dell'acqua di Eleonora vediamo un po' il test dell'acqua di Eleonora il test dell'acqua di Eleonora il test dell'acqua di Eleonora si mi dai si mi da 13.000 a me 3 12 5 13.000 metri ciao dopo poi ti mando un messaggio a te ciao Melania ciao tanto noi tra una settimana praticamente ci vedremo ciao Chiara anche ecco se ho perso qualcuno Riccardo ciao grande Stefano ciao eccoci qua eccoci qua allora allora quindi abbiamo già fatto un test sull'acqua di Eleonora ed è a 16.000 adesso voglio vedere il nodo è a 12.000 adesso Fabio ci ha mandato il famoso nodo quello che abbiamo tappato la scorsa settimana vediamo un po' un attimo e si guarda a me è 17.000 quasi 18.000 quindi va bene anche quello che ha detto Eleon Eleonora si stiamo tra i 17 18.000 Silvia ciao eh si Fabio perché c'è qualcosa che ti su o una strano ripendo un attimo no 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 Fabio stiamo tra i 16 17.000 eh vedi qui abbiamo siamo tutti tra i 16 18.000 che 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 cos'è che ti su o una strano perché comunque insomma parliamo di eh vedete ognuno poi c'è la sua sensibilità evidentemente però qui parliamo di una discrepanza molto piccola quindi siamo stati tutti quanti bravi la discrepanza che può portare a un errore ad esempio se tutto vai sui 18.000 uno va a 2.000 ecco io lo sto testando siamo sui 7 gli 8.000 allora diciamo ovviamente un valore sempre buono però ecco ad esempio in questo caso c'è una buona discrepanza e devo capire il perché intanto rifaccio no tra i 16 e i 17.000 te resa ciao 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 è strano Fabio però che gli hai fatto a questo nodo gli hai fatto il reiki perché abbiamo visto che con i reiki tu puoi bloccare il nodo di artman sarebbe curioso di fare il test con i simboli del reiki se qualcuno come me ha fatto il reiki vuole fare una prova provasse con ad esempio il choukurei che non vi posso fare perché la tradizione vuole che i simboli vengano mostrati solo nel secondo livello quindi non vi posso far vedere cambiando pendolo c'hai 18000 la tua acqua il reiki quindi tu l'hai fatta con il reiki quindi perché è curiosa anche oddio è curiosa con il reiki puoi fare davvero ogni cosa inviare sia i trattamenti a distanza puoi anche lavorare ovviamente su te stessa sul cibo sull'acqua ma perché no sì vabbè vabbè allora io fatti siamo praticamente due scienziati pazzi mandati sulla sulla terra per tappare i nodi di artman l'hai fatto con il reiki sì quindi anche tu e leonora l'hai fatto con il reiki molto bene sono ripeto curioso di capire di capire se magari si può fare con il simbolo reiki con uno dei dei simboli reiki che sono convinto di sì io sono convinto di sì perché dovete fare il secondo livello non ve lo posso dire purtroppo potrei insegnarlo ma calcolate che che fare le attivazioni a distanza è un qualcosa di roberto ciao intanto fare le attivazioni a distanza è qualcosa di tremendamente complesso quindi potrebbe se vuoi lo rifaccio all'inverso lo riapro ecco allora vai sì brava eleonora riapri il nodo di artma e quando hai fatto ce lo dici senza mandare foto così intanto ci alleniamo anche che poi a parte che c'è però quella è una foto con il nodo attappato perché stamattina c'eravamo posti no era in mattina c'eravamo posti il problema del nodo che si sposta un nodo di artman non si sposta perché viene da sottoterra quindi lo abbiamo proprio attappato neutralizzato magari un parolone però secondo me è tappato fermo bene sono contento ricordati sempre importantissimo che sia un cane un gatto o una persona sempre per il sommo bene perché troppo stroppia allora senza foto vai senza foto andiamo a testare il nodo di artman ora di fabio 3.500 4.000 a me da 3.500 e 4.000 3.500 vediamo un po' 3.500 4.000 intanto lo scrivo anche io oddio c'è il mio faccione anche su facebook aspettate un secondo ecco infatti lo confermi si stiamo tra i 3.500 4.000 intanto scusate ma risponda Monica questa cosa è molto importante per la sua gatta perché come ho detto mi voglio specializzare anche nella radice sia sugli animali adesso sono sempre io niente ormai ho il sorcio sulla ruota che non fa partire bene la connessione intanto scusate ma io poi ho sempre la tv accesa io ho la mia fedele compagna di viaggio allora eccoci qua eh sì siamo sui 3.500 4.000 come vedete senza che noi ci possiamo essi d'accordo prima guardate se la radio e se sia funziona o no ancora che dicono è un caso è un caso è un caso se una persona magari c'è sintonia ma io a voi non vi ho mai visto in faccia se non su whatsapp né i corsi ci può essere una sintonia di interessi ma sicuramente non ci possiamo mettere così d'accordo quindi questa è proprio la testimonianza che funziona la radio e se sia funziona è uno strumento potentissimo vai altra altra foto un oggetto anche allora alt fermi stop film c'ho una foto da farvi vedere gianna ciao ho una foto da farvi vedere si tratta di una cripta probabilmente templare di di viterbo sotterranea ok io ho già fatto un test sulla scala quella un po' più grande però voglio ipotizzare che la scala di scala ce ne sia soltanto una voglio che adesso voi facciate questo test test vediamo un attimo vi metto il pendolo bugiardo evidentemente è impregnato prova a ripulirlo un po' allora vi sto mettendo una foto adesso vi chiedo di se me lo fa fare eccola qua vediamo un po' se me lo fa fare allora foto e video vediamo un po' allora eccola forse ci siamo forse sta sul desktop questa immagine eccola qua allora vai studiare questa foto vi chiedo di fare un controllo dove c'è la croce sotto a Q e l'altare io intanto anche io voglio fare un attimo un test sul pendolo di Fabio sì mille lo puoi mettere pure sotto l'acqua e sale anzi a me praticamente zero avanti con questa foto vediamo Q io l'ho fatto sull'amstrong quello che arriva a un milione prendiamolo ovviamente con le debite proporzioni ok io ho già il valore di questa foto è sul gruppo su whatsapp teresa purtroppo non lo so come si fa a mettere sui commenti dovrei un attimo vedete devo fare un attimo una prova aspetta un secondo vediamo un attimo se riesco a metterla teresa eccola qua voglio un po' provare risponderti vediamo se funziona bravissima 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 è proprio è quello pensa che questa pensa che questo posto a me da 23 mila quindi ok diciamo che ci siamo pensa che questo posto se lo vedi sulla scala di angstrom arriva a circa 600 mila a te 100 mila ma hai fatto proprio il punto c cioè diciamo lì sotto alla croce ve lo chiedo perché mi hanno chiesto uno uno studio più più dettagliato a livello energie è il tipico di quella di quella zona quella zona è particolare perché per per accedere a quella sala che avete visto ci sono delle scale e vedi proprio con i bovis che mano a mano che scendi ogni scalino i bovis aumentano fino ad arrivare anche a 600 mila bisogna vedere se le persone sotto la croce 600 mila perfetta anche 100 mila è spro cioè è tantissimo è quasi folle come 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 valore no quindi questo vi fa capire che popò di realtà c'è 50 che va fuori sottoscritti sì fabio poi quando tu verrai qui a Viterbo magari in primavera maggio giugno te la consiglio per i ponti perché tanto c'è il ponte 24 del 25 aprile primo maggio eccetera se sei libero e ti va di venire qui dalla mattina alla sera tanto dalle marche non credo che sia un viaggio tremendamente lungo ci andiamo io e te e faremo lì delle prove molto curviose Michela mi dà un un decimila rifallo perché un decimila è troppo poco un 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 decimila è troppo troppo poco sì stefania sì puoi mandarmi il 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 numero sì io emiliano fai tu un esperimento con l'acqua per chi non ha facebook ah ecco infatti ti dicevo sì sì posso farlo mi dovete però c'ho una bottiglia d'acqua in plastica facciamolo facciamo un esempio su una cosa che non va fatta ok aspettate un secondo allora allora acqua bottiglia di di plastica lo so che non si usa la bottiglia di plastica adesso però c'ho questa non c'ho la possibilità non mi va di scendere di due piani andare andare adesso adesso fate un test su cu e stacqua l'ho appena presa dal rubinetto del bagno ok fate fate qua un test e poi un giorno faremo anche un test per la ricerca dei metalli pesanti soprattutto dentro quest'acqua qua voi intanto ci ercate la aspetta prima dammi un valore di di quest'acqua e poi si guarda è più facile il livello di fabio pur troppo allora adesso mi concentro un secondo eh perché così anch'io mi allena con il reiki perché non sempre lo faccio sono sincero non nonostante ho un terzo livello allora l'acqua adesso mi concentro anch'io qualche secondo eh chiedo alla mia energia al mio prana di pur pur luogo pur purificare 曲 sate acqua per renderla più possibile buona e salutare ricordo che è sempre una bottiglia di plastica però se facciamo anche questo tipo di prove ok vai ora vediamo un attimo vediamo che valore mi dà ora e adesso ho un valore chiedo qual era il valore di prima ok allora va sempre bene ma non vorrei che la plastica dia fastidio nella rivedia un po' a meno che Fabio puoi controllare ora? c'ho un dubbio non vorrei che l'energia venga assorbita lentamente ti ricordi l'avevamo fatta questa prova con l'acqua vibrazionale io prendo sempre 16.000 vediamo un po' io adesso guardo voi così non influenzo il pendolo a me adesso da tra i 15.000 16.000 15.000 però è in diciamo si sta rialzando adesso 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 facciamo una cosa il carnet andiamo a scaricarla quindi chiedo che questa acqua venga scaricata è portata al suo valore base ora è leonora si vabbè ma tanto poi lo rifacciamo il test ve la potete misurare ora? io l'ho abbassata ora infatti fa schifo come prima una cosa sta qua è una cosa che voi non potete neanche immaginare è infatti e leonora si 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 te lo confermo è 2000 si 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 anche Fabio si si quindi l'ho l'ho rialzata con il re con il re i reiki voglio provare solo a fare una prova per vedere se magari non è ora ora ho fatto quella specie di reiki solo per 10 secondi facciamo questa prova e sta prova solo per 10 secondi io c'è un po' io c'ho l'impressione che sia la plastica un po' che perché io per 10-15 secondi di reiki ho 7000 no si sta alzando adesso effettivamente è la madonna 16000 è vero è vero 10 secondi di reiki io che non ho potere di alcun tipo vediamo un po' però io c'ho l'impressione che sia la plastica che rompa un po' le scatole forse magari è la mia non pazienza nell'aspettare il movimento del pendolo infatti adesso Eleonora si era proposta di abbassare il valore dell'acqua e adesso abbassano il valore dell'acqua Eleonora abbassano il valore dell'acqua facciamo finta che io sono un tuo cliente mi fa un un ripristino energetico di st'acqua te la faccio vedere ricordo che l'ideale è sempre il vetro adesso ho questo e anzi ci può aiutare a capire pure quanto la plastica rompe le scatole prima 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 quando sì sì certo allora all'aspetta il trattamento a distanza è nel secondo però fai un tentativo dai vai concentrivi su questa bottiglia di acqua è tossica calcola che Viterbo ha una delle acque peggiori perché fino a qualche anno fa aveva l'arsenico poi hanno fatto hanno messo così dicono i depuratori ma insomma ha un sapore che ha dell'assurdo allora Eleonora vediamo un po' 2.002 e 5 2.005 2.005 2.005 ombretta ciao volevo rispondere alla amica del Rechia Bianca allora Bianca tu hai fatto soltanto il primo livello del Duco tu però puoi pensare anche di farlo online il corso il secondo livello ti insegna il trattamento a distanza un bel ci da 2.000 e Eleonora addirittura 0 vabbè calcolate che tra 0 e 2 mila la differenza maria ciao è irrisoria quindi io credo proprio che ci siamo ecco adesso voglio rifarlo un attimo vediamo un po' io invece mi piace fregarmi sempre le mani perché in questo modo ho diciamo il chakra della mano è bello attivo così mi accorgo se ci sono eccoci qua sto applicando il reiki a questa bottiglia di acqua nel frattempo io testo adesso sarà 12.000 fatemi sapere il vostro fatemi sapere certo fai tutto quello che vuoi tanto visto che pochi secondi di di i reiki fanno alzare il livello dell'acqua pensate a una seduta eh sì che è quella dai a me mi dà 12.000 a te ti dà 13.5 dunque va bene quindi pensare quanto il reiki fa per questo per noi per noi che usiamo pendoli il reiki è fondamentale qualcuno e qualcuno di voi già lo sta facendo vi consiglio il maestro Perardino Nardella che lo trovate sulla piattaforma i i u 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 fa i corsi a 20 euro scarsi chiara ciao eh umberto l'ho fatto tre volte il valore da 17.500 18.000 va bene eh allora per un'acqua eh troppo Alessandro è vero è molto bello eh per un'acqua così di rubinetta è troppo però comunque ci fa vedere giochetto allora eh dai 20 minuti vi voglio mettere un attimo alla prova prendete tutti quanti un pezzo di carta piccolo e un bicchiere di acqua voglio riprodurre con voi un'acqua vibrazionale è ovvio che queste sono cose che in parte tratto nel corso eh io adesso mi scelgo un'acqua intanto finisco di testare questa voi intanto prendete acqua e un pezzetto di carta adesso la mia acqua è a di 10.000 tende ad andare sull'11 diciamo tra i 10 gli 11 11 e 5 intanto vogliamo di farvi fare un esercizietto vediamo vediamo un po' quale acqua è probabilmente la è la plastica perché fabio a te che che ti dà come va l'ore ok monica allora pon pon il caso vogliamo fare l'acqua 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 vibrazionale vediamo un po' vediamo un po' vediamo un po' scusate un secondo che io intanto qui continuo a ricevere i vostri i vostri che carino questo gattino di monica è un amore quanta la mia di bovis no aspetta ando a caricare un'acqua delle fate ok allora mi prendete un pezzo di carta e mi scrivete acqua di l'urde ossia acqua di l'urde s scrivetelo su questo pezzo di carta anche se non avete lo iantra in teoria almeno il triplo decagono ce lo dovreste avere però facciamo un po' di prove cerchiamo un attimo di uscire da questi schemi dogmatici prendiamo il foglietto di carta su cui abbiamo scritto acqua di l'urde giriamo in senso orario dicendo valorizza il testimone acqua di l'urde e vi fermate aspettate che il pendolo si fermi quando avete fatto questo mettete il pezzo di carta sotto l'acqua per per te monica guarda eleon ora guarda visto quello che stai passando si adesso tu te ne fai una bella tannica ti compri in farmacia una ago canula una bella bella flebbo tra te tuo figlio e tuo marito guarda è proprio perfetto abbiamo proprio trovato l'acqua adatta a voi allora dai mi scrivi questo pezzo di carta me lo metti sotto a un bicchiere e se avete il triplo decagono o lo yantra andate a metterlo sotto andate a mettere l'acqua e l'acqua e il foglietto di carta sullo yantra e e poi tra adesso lo mettiamo un attimo da parte circa 5 10 minuti e andiamo a fare poi i bovis e andremo poi a controllare rossella ciao andremo poi a controllare acqua di lourde i valori così vediamo chi si avvicina di più vediamo se guarda Eleonora manca farla apposta questa acqua è molto indicata per le patologie della pelle quindi dalla chi di dovere ci siamo capiti va bene rossella quando vuoi perché tanto oggi stiamo facendo soltanto pratica quindi ci divertiremo insieme ancora un quarto d'ora 20 minutini al massimo ok intanto vi dico appunto che questa acqua è utile nelle patologie della pelle quindi allergie acne eritemi eczemi herpes foruncoli bruciori puntori di insetta rossamenti tagli e ferite anche per la patologia genitaria sia maschile che femminile e coadjuvanti in certi tipi di tumore è ovvio quando parliamo di tumore cerchiamo sempre di essere perché eri ho visto un servizio delle iene che hanno hanno braccato una scienziata di cui non voglio fare il nome e è un po' truffaldina e usa anche il pendolo in una maniera che ci sputtana un po' a tutti noi allora vediamo un po' Monica ci manda ok brava Monica allora Monica sul gruppo di whatsapp ci ha messo proprio una la classica bottiglietta di lourde dell'acqua di lourde che è in plastica la bottiglietta andiamo a fare un attimo un test sulla bottiglietta sua ok dai andiamo a fare adesso un test sulla nostra acqua con sotto il foglietto forse presta ancora però facciamo un attimo questa prova ma guarda Monica già ti posso dire comunque che solo dalla foto il valore è quello che mi aspetto allora dai vediamo un po' le vostre acque ok 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 mi mi dire ora l'acqua col foglietto sotto io che numero è un ibrido è un 1500 la tua è 20.000 ok quella di Eleonora vediamo un po' quella di Eleonora vediamo un po' Eleonora quant'è Eleonora quant'è Eleonora quant'è Eleonora mi dà i guarda te lo scrivo tra i 19 e i 20.000 Umberto mi dà 18.000 ok vediamo io intanto prendo e tra un po' vi faccio vedere qual è il valore voi dovete allora le acque vibrazionali sono eccezionali perché davvero ci si può fare di tutto e di più di tutto e di più si potrebbe davvero capire uno studio solo su questo perché addirittura questo libro ti dice chakra per chakra quali sono le acque più giuste e poi sulla base di quello con l'acqua ci potete fare quello che vi pare piace allora intanto arrivo bianca ho letto anche te intanto mi guardo un attimo monica monica sta sui 20.000 michela michela vediamo l'acqua di michela l'acqua di michela l'acqua di michela michela mi dai 19.000 circa controllate anche voi per la sinusite l'acqua della fonte deve fare è vero perché ha letteralmente salvato il naso di fabio allora la tua michela ti rispondo da qui aspetta che te la ritrovo la ti testo ma più o meno c'avevo il dato su insomma vediamo un po la tua acqua sta 19 20.000 quella di bianca sarà 24 leggermente troppo leggermente troppo allora però va bene bianca cioè parliamo sempre di un valore alto però però il valore dell'acqua di lourde voi lo vedete al contrario poi cercherò di risolvere anche questo 19.000 agisce sul secondo chakra no sul primo terzi chakrani va in sintonia con il chicory e il white chest nut che sono ovviamente i fiori di buck in questo libro ad esempio per le persone che hanno un blocco sul primo chakra ok un blocco del primo chakra possono prendere il gallinario fiume canci lilly shane loretto lourde madonna del sasso notre dame della garrison san filippo benzi santa maria in via quindi ogni chakra ha la sua acqua e questo a noi ci bra ecco corri ma proprio sai che vuol dire allora vai allora fagli un test prima suo sui povis prima fagli bere l'acqua dopo cinque minuti rifai il test io intanto provo a fargli un attimo io il test a tuo marito anche se non l'ho mai visto forse l'ho visto una volta in foto attualmente è a 5.000 ok è ovvio è ovvio non puoi aspettarti altro vediamo un attimo mi ha acqua da male ma noi ci guardano sempre male perché purtroppo il pendolo appunto a causa di quei fanfaroni che vanno a dire no devi togliere i farmaci perché il pendolo mi ha detto no allora io anch'io non sono d'accordo a riempirsi di farmaci anch'io credo che la sta grande la sta grande maggioranza delle malattie che ci stanno siano in qualche modo indotte però però dobbiamo sempre avere comunque il rispetto per la classe scientifica e per il paziente sempre ok ok la state bevendo mi dite se sentite un sapore di terzo perché è importante anche quello allora vediamo un po' vediamo se la sta bevendo il marito di Eleonora sta bevendo quest'acqua cerco di connettermi con lui allora fagli un test ora di bovis Ele fagli un test io sono convinto che già da domani un lieve miglioramento lo può già avere se così fosse abbiamo la prova che queste acque vi razionali sono davvero una bomba e vanno studiate soprattutto noi infatti io ho preparato già un bel q adrante con tutti i 50 queste acque però vi consiglio anche il libro anche perché costa solo 7,95 euro spiega in maniera anche un po' tecnica però abbiamo fatto tante prove con Fabio abbiamo visto che funzionano anche senza troppe menate pizzica un po' eh ma ci può stare assolutamente ok allora calcolate che ci sono anche acque che vanno a 54.000 eh tipo l'acqua di su tempi e e e su 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 tempi e su sarà il tempio credo che si trova in in Sardegna e ci sono acqua 17.000 calcolate che un'acqua vibrazionale eh è curativa dai 13.000 in su c'è un'acqua ad esempio acqua acqua 21 è il giardino dei libri c e l'acqua guarda anche su su amazon perché anche amazon c'ha sempre molto c'ha sempre ottime offerte il giardino dei libri io lo adoro perché c'ha una marea di cose davvero trovi di tutto e di più questo ad esempio la cromo radiestesia io l'ho trovato sul giardino dei libri pensavo che ci fossero anche i colori invece no non ci stanno immagini niente un po' un peccato però è utile anche quello semplice un'acqua che è 41 24 27 18 26 54 e quella più alta e poi alla fine sono contento bianca ti invito a continuare a fare questi test ogni acqua ti dà tutte le caratteristiche sui chakra su quali chakra con quali chakra in vibrazione con quale corpo soprattutto meridiani della della medicina tradizionale cinese vediamo un po' che ti dice anche acqua per acqua ma quello sui chakra secondo me è la cosa più semplice anche per noi quindi se vediamo ad esempio c'è uno squilibrio ad esempio sul chakra del che ti posso dire del plesso un'acqua potrebbe essere la fonte delle fate o il santuario di caravaggio o il santuario di padre pio quindi questo è curiosissima anche come cosa allora signori è stato un piacere per il chakra basale allora tu francesca prima mi avevi detto che avevi dolore al fianco il titolo su whatsapp che intendi di cui di cui sto prendilo acque vibrazionali di fabbio no 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 centini allora per il chakra basale te lo dico subito chakra della base abbiamo galli allora il gallinaro fiume gange lichen loreto lurd madonna del sasso notre dame della gherison san filippo benizi santa maria in via alla gamba allora tu hai ok la gamba inteso è comunque il chakra della base ok quindi prova a farti una di cui este a qui qua ah si tu come natura roba tra sai fabio centini allora fa gli miei complimenti perché è un testo molto molto completo ve lo faccio ripetere noi ci vediamo domani sera alle 6 e mezza abbiamo una live niente male con una nostra amica che all'interno del gruppo manteniamo il segreto si parlerà di mente e pendolo molto molto curiosa come cosa questo video sarà assolutamente importante per tutti quanti noi quindi andrà come sempre su facebook e vediamo questa sera di riuscirlo a mettere su questo benedetto youtube rifacciamo queste live sì ok ovviamente non ho problemi vediamo un attimo che io adesso in questi giorni ho leggermente qualche impegno a me le cose mi continuano a spar- a spar- vive io davvero non ci sarò ogni ufo in camera mia eccola qua allora vediamo una matita me lo segno con voi vediamo se riusciamo a farla venerdì 31 in tarda serata un po' tipo a quest'ora perché io sto tutto il giorno a cassino da una nostra amica oppure giovedì 30 forse è meglio quindi me la segno per giovedì 30 ore 20 22 22 facciamo una bella live ok ci sarà su whatsapp e cosa umberto cosa sì ti direi anzi vi direi questo facciamo questa bella live domani mi raccomando domani è domani non non dovete mancare non dovete mancare non dovete mancare perché perché domani si parlerà di mente e pendolo e ovviamente anche quel video di domani andrà dritto 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 su youtube intanto fabio ci manda la tavolozza dei colori grazie perché e vabbè fabio non c'è problema che perché poi lo salviamo è stata ovviamente qui e soprattutto ci tengo molto che vada su youtube per quella di domani no vabbè è sempre qui su facebook allora la tavola cromatica rispondo a eleon eleon ora la puoi usare in mille modi puoi capire intanto qual è il colore che magari serve a te o a tuo ma fito senza che passi su ogni q adrante su ogni rettangolo ti fai il tuo circuito con le lettere e con i numeri quindi fai a 4 ti fai a vedere a 4 e questa specie di rosa se gli hai chiesto qual è il colore utile per dire a tuo marito questo momento e ti esce a 4 è il rosa e quindi puoi dargli qualcosa di rosa oppure puoi vedere qual è magari il colore che in questo frangente non deve prendere ma anche in quel caso tu ti fai il tuo bello il tuo bello schema e ti trovi anche il colore che non va in sintonia con tuo marito ok allora vi saluto ho visto la tavolozza dei colori quindi adesso farò io un quadrante e vediamo poi quando metterlo e grazie è stata davvero molto stimolante questa live ci vediamo domani intorno alle sei e mezza e sto spiegando alle cinque qui dobbiamo allestire un po' e poi si parte con una super live ciao a tutti grazie grazie